Ciao ragazzi! Il libro è pronto e presto sarò con voi per raccontarvi la mia bellissimissimissimissima esperienza. Siete pronti? Vi farò vedere tante foto e tanti video che ho realizzato nel mio viaggio in Europa. Mi raccomando, preparate tante domande, fatevi anche aiutare dai vostri professori. Io vi prometto che risponderò a tutte quelle che a voi mi porrete, anche quelle più strane. Se volete vi posso raccontare tutte le curiosità che ho incontrato in Europa riguardo la geografia, la storia, la cultura in generale. E se non vi interessa non fa niente, portatevi un pallone che giochiamo a calcio. Io sto in porta! Nel frattempo vi mando un saluto e ci vediamo tra poco. E anche Kava vi saluta. Lei è sempre stata con me in tutto il viaggio, dovunque io andassi, lei era o nella mia tasca o nel mio zaino. Saluta Kava! Di ciao! Kava! Kava saluta! Kava ciao! Non saluta! E' una tartaruga antipatica. Ciao!